VITAMOZUO gruppi telegram fissati nel primo commento è bellissimo saperlo perché poi mi scrivete che ho perso gli outfit invece no ve lo sto dicendo a inizio video che perdete il secondo personaggio eliminate tutti gli outfit sul primo tranne uno ok allora requisiti ragazzuoli dobbiamo avere solo qualche soldino per acquistare degli outfit sul secondo personaggio poi da una sessione qualsiasi prendiamo e partiamo e andiamo su cambia personaggio quindi facciamo option online e andiamo su cambia personaggio ok ragazzuoli arrivate sul cambia personaggio dobbiamo andare a selezionare il secondo personaggio e deve essere uomo mi raccomando secondo personaggio uomo se no non vi esce nada de nada e ce ne andiamo online ok ragazzuoli responati in sessione col personaggio uomo ci richiamo in un negozio qualsiasi sulla mappa se nel caso non vi escono i loghi della maglietta quindi i negozi sulla mappa semplicemente cambiate sessione e poi vi dirigete in un negozio qualsiasi sulla mappa allora andiamo subito a vedere per fare i joggers sul personaggio donna dobbiamo andare su pantaloni e acquistare questi pantaloncini vi faccio vedere il numero da ovviamente da che numero partire fino a che finire ok quindi dovete partire dal 35 fino al 44 fino ai boxer bianchi adesso in ordine per come ve l'ho fatti vedere qua quindi al 35 vi faccio vedere quale joggers sono ok quindi andiamo in cassa andiamo a vedere quale joggers sono perché li ho già nominati mi sono già portato avanti quindi andiamo in cassa e vi faccio vedere quali sono completi salvati sono i primi neri, i bianchi, i tan il grigio, il blu, il red, il viola scusate il rosa, il viola, l'orange e poi l'ultimo il verde quindi acquistati tutti questi pantaloncini andiamo semplicemente dove sono la sezione delle scarpe quindi andiamo su scarpe andiamo su scarpe da skateboard e andiamo a prendere queste qua nere ok a questo punto facciamo cerchio, cerchio, cerchio una volta salvato tutto quanto facciamo touchpad e andiamo su ucciditi ok ragazzoni un'altra respawnata in sessione facciamo semplicemente option online e ce ne andiamo nel creatore una volta arrivati nel creatore facciamo crea una gara andiamo su tutorial aspettiamo il caricamento della modalità creatore su questa schermata facciamo option online e ce ne andiamo su seleziona personaggio ok una volta arrivati su seleziona personaggio ragazzoli fate attenzione a questa parte perché è l'anima del creatore ok allora dobbiamo andare sul secondo personaggio ok quindi ovviamente assicuriamoci di avere il secondo personaggio selezionato premiamo quadrato e scriviamo proprio elimina ok quindi scriviamo elimina dopodiché uscirà questo messaggio fate attenzione se siete da old gen quindi ps4, xbox one eccetera eccetera dovete premere semplicemente cerchio oppure il tasto y se non sbaglio su xbox se invece siete da next gen dovete farvi invitare da un amico in mire differente si buggerà l'immagine e andate direttamente in storia quindi io sono da old gen e premio cerchio per andarmene in storia ok una volta arrivati in storia ragazzoli appena ci dà la possibilità facciamo option online gioca gto online e ce ne andiamo alla sessione solo a inviti ok una volta arrivati in sessione ragazzoli ci richiamo in un negozio qualsiasi sulla mappa ovviamente andiamo all'interno andiamo a salvare prima di tutto l'outfit che abbiamo utilizzato a inizio clip perché se no lo andiamo a perdere lo andiamo a mettere verso l'ultimo slot io vado semplicemente a sovrascrivere ovviamente mi porto sempre avanti nei video a questo punto andiamo a vedere che cosa è successo quindi abbiamo i joggers neri abbiamo i joggers bianchi abbiamo i joggers tan il joggers grigio quello blu quello rosso quello viola cioè quello rosa scusate quello viola sono dal tonico stasera quello arancione quello verde e poi abbiamo l'outfit iniziale quindi molto semplice da fare ovviamente approfittatene a fare tutti quanti i joggers è ovvio che la parte superiore ovviamente ve la fate voi come volete ok? quindi le parti superiori come vedete non si sbagga il pantalone quindi potete fare quello che volete perciò ragazzuoli spiuggetto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella